Abbiamo attivato intanto le procedure di raffreddamento e conciliazione nei confronti della società regionale di trasporti. Siamo già alla seconda fase quindi ci aspettiamo nei prossimi giorni la convocazione da parte della prefettura. Al tempo stesso ci stiamo muovendo anche attraverso delle denunce e ci riferiamo in modo specifico ai subaffidamenti che la società regionale di trasporti sta effettuando in questi mesi. Quindi abbiamo fatto partire proprio nei giorni scorsi una denuncia che abbiamo indirizzato sia all'Ispettorato del Lavoro e sia all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale quindi all'Inps affinché accertino e verifichino la corretta applicazione dei contratti di lavoro da parte non soltanto delle aziende che hanno avuto in subaffidamento i servizi da tua ma in generale di tutte le aziende di trasporto che operano in Abruzzo. Si parla anche di investimenti che l'azienda dovrebbe fare per il futuro. Sì, diciamo che più che l'azienda dovrebbe essere la regione a predisporre i fondi per gli investimenti a tutte le società del trasporto pubblico locale in Abruzzo. Ivi comprese quelle che sono le particolarità del territorio, quali la filovia per esempio a Chieti. Invece assistiamo a una decurtazione del 5% delle percorrenze sulla filovia in un quadro dove la mobilità ecologica dovrebbe farla da padrone. Invece assistiamo ai tagli proprio su quel settore. C'è anche una circolare che voi avete tirato fuori, avete tirato in ballo? Beh sì, noi abbiamo fatto riferimento all'ultimo atto, la delibera di giunta regionale 756 con cui la regione dando seguito a una precedente delibera del precedente consiglio regionale ha praticamente stabilito quali sono le regole per gli affidamenti dei servizi di trasporto una volta che scadranno le concessioni che sono ancora in regime di proroga. Questo a far data dal 1 gennaio 2021 dovrà dare i suoi effetti. Che cosa ha stabilito la giunta Marsiglio? Di affidare con soli 5 procedimenti di licitazione privata di 5 altrettanti lotti i servizi e procedere con ben 18 subaffidamenti diretti concessi a delle aziende rispetto alle quali non si sa quali saranno i criteri di scelta. Cosa ci preoccupa? Il dumping che questo determina a danno dei lavoratori, a danno dell'occupazione e soprattutto a danno della qualità dei servizi. Tra le problematiche c'è anche quella dell'esternalizzazione dei servizi. Un'azienda di trasporto pubblico non ha la prerogativa di fare utili ma deve restituire alla collettività occupazione, occupazione e qui parliamo di oltre 150 posti di lavoro e servizi intesi come qualità del servizio e garanzia dell'esercizio programmato. Questo non sta avvenendo in Tua che tra l'altro è un'azienda con affidamento in house, quindi ha la certezza dei fondi per un periodo ben definito nel tempo, che invece le immagini dove sono state esternalizzate le linee ad alcune aziende private, in alcuni ambiti tu hai dovuto garantire i pullman e in alcuni altri ambiti addirittura hai dovuto garantire le corse bis. Questo ci lascia perplessi sulla riuscita dell'operazione. Grazie. Grazie. Grazie.